Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi siamo praticamente tornati ad un anno fa anche di più di un anno fa in effetti era più o meno febbraio 2019 con questo super video Trottale insieme al carissimo Davide e con questa prima parte perché ci sarà anche una seconda parte di Trottale in compagnia vi annuncio che lunedì uscirà un video sfida veramente fantastico in fiume preparatevi perché ci saranno delle super catture e dei super momenti dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, iscrivetevi al canale anche se non siete ancora iscritti mi raccomando superiamo i 100 like per far uscire la seconda parte il prima possibile dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video no, non sono matto ti ho dato? si, non abbiamo aperto il massimo colore? eh, Fire Tiger guarda Tu es? Vai, bassa, canna bassa, canna bassa Vai, vai, tieni a bassa, più bassa ancora Vai, vai, vai Alza adesso Di qua Dai, piccinino, vai Su E una Sì, sì La mia, non ho bene il piste Ti ha già fatto del nuovo albuso del naso E' utile Che non ho per la faccia E' una faccia E poi io per te la massa Eccolo 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 8-9 kg Grazie. Si ma piccola. Si. La faiglia? Si. 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 Tu ves? C'è un pezzo. Si. 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 Quanto28 ha iniettli. A me ha detto che perchè c'è un mangiata in trota. l'ho lasciato cadere se l'ha portato via Davide l'ha attaccata attenzione doppia 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 qua attenzione double belle bella 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 in guadino una la seconda piccolina chiudi un po' per la frizione vai alza la, alza la, alza la ok vengo di bella trottina qua adesso mi ha dato una mangiata la trotta l'ho lasciato cadere se l'ho portato via queste ci appartite la trottina l'ho lasciato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.